amiche giocatrici e amici giocatori ci siamo bentrovati sul canale di bpm power questo giovedì alle ore 23 locali sony interactive entertainment trasmetterà in diretta streaming un nuovo episodio di state of play l'evento molto atteso da fan e appassionati mostrerà tutto il globo terracque una serie di novità e approfondimenti per ben dieci giochi in arrivo per ps4 e la nuova playstation 5 tra cui annunci di nuovi titoli ancora inediti e aggiornamenti su nuove uscite sia indiche di terze parti che abbiamo già avuto modo di conoscere qualche tempo fa durante la tanto attesa presentazione di playstation 5 lo scorso giugno lo show durerà all'incirca 30 minuti che conoscendo sony saranno carichi di annunci interessanti o di trailers il colosso nipponico ci ha tenuto particolarmente però a precisare che non ci saranno annunci dedicati all'hardware playstation o relativi all'industria più in generale in questa puntata quindi il nuovo psvr che è stato annunciato ieri non troverà alcuna presentazione in questa edizione di state of play lo show di sony interactive entertainment si concentrerà quindi sui giochi in arrivo nei prossimi mesi per le due console di punta playstation 4 e playstation 5 ricordatevi di sintonizzarvi giovedì 25 febbraio alle ore 23 per seguire la diretta su twitch e youtube vi lasciamo il link in descrizione e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace qui in basso e a iscrivervi al nostro canale youtube mettere mi piace anche la pagina facebook e anche seguirci su instagram ciao e al prossimo video